ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'integratore alimentare prodigest a cosa serve prodigesta un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la digestione è commercializzato in italia dall'azienda scarpe rspa informazioni commerciali titolare scarpe rspa concessionario scarpe rspa categoria di appartenenza integratori per la digestione forma farmaceutica capsula confezioni prodigesto 20 capsule indicazioni lo zenzero e il carciofo contenuti in prodigesta marchio registrato favoriscono la fisiologica funzione digestiva lo zenzero inoltre è utile per la regolare motilità gastrointestinale per l'eliminazione dei gas e come antinausea modalità d'uso si consiglia di assumere una capsula di prodigesta marchio registrato accompagnata da un po d'acqua in concomitanza dei pasti principali descrizione e caratteristiche integratore alimentare a base di carciofo foglia estratto secco standardizzato e zenzero officinale estratto secco il carciofo il carciofo botanicamente cinara cardunculus l ha noto per le sue proprietà benefiche nei confronti dei disturbi gastrointestinali a è tradizionalmente utilizzato per favorire i processi digestivi in quanto provvisto delle seguenti proprietà e peptiche favorisce la fisiologica funzione digestiva col eretiche e collagoghe favorisce la normale funzionalità epatica i principali componenti funzionali del carciofo sono i derivati dell'acido caffeico acidi caffèo e chimici i flavonoidi derivati della luteolina e i terpeni quali la cina ropicrina e suoi analoghi l'estratto di carciofo standardizzato e titolato contenuto in prodigesta marchio registrato contiene almeno il 20 per cento di acidi caffèo e chimici almeno l'8 per cento di flavonoidi e non meno del 7 per cento di cina ropicrina che garantiscono qualità e costanza di attività lo zenzero lo zenzero zingiber officinale rosque ha conosciuto non solo come spezia ma tradizionalmente come pianta officinale per le proprietà stimolanti la motilità gastrointestinale a digiuno e post prendiale per la capacità di facilitare l'eliminazione dei gas intestinali e per la sua evidente azione antinausea manifestazioni di alterata motilità del tratto digestivo superiore si riconoscono in quanto caratterizzati da senso di digestione lenta nausea fastidio o distensione addominale e rotazioni sazietà precoce meteorismo sensazione di ripienezza post prendiale i principali componenti funzionali dello zenzero sono soprattutto i gingeroli e gli sciogaoli l'estratto di zingiber officinale rosque contenuto in prodigesta marchio registrato contiene dal 25 per cento al 33 per cento di gingeroli e sciogaoli a differenza di altre sostanze ad azione antinausea lo zenzero non agisce a livello del sistema nervoso centrale ma direttamente sulla mucosa gastrica per cui non provoca sonnolenza la composizione contenuta in prodigesta marchio registrato a coperta da brevetto europeo n e 237 90 92 prodigesta marchio registrato a un marchio registrato di indena spa italia avvertenze non superare la dose giornaliera consigliata tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata di un sano stile di vita il prodotto viene fabbricato in uno stabilimento che utilizza derivati del latte e della soia conservare a temperatura inferiore ai 30 gradi evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate ai raggi solari e tenere al riparo dall'umidità la data di validità si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra non disperdere nell'ambiente dopo l'uso allergeni senza glutine naturalmente privo di lattosio ingredienti carciofo foglia estratto secco standardizzato e zenzero officinale estratto secco fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato